Le misure di emergenza per il Covid-19 hanno determinato un calo della domanda elettrica. RSE, con l'attività svolta nel laboratorio TV Dieta, ha risposto a due domande e gli studi attualmente disponibili non hanno ancora evidenziato. La prima è il consumo elettrico è diminuito per tutte le tipologie di carico? La seconda, il profilo giornaliero e settimanale del consumo è cambiato? Confrontando il consumo elettrico totale nella settimana di riferimento con le settimane del lockdown si osserva un calo di domanda della città di Milano intorno al 19%. Analogamente la pressione di domande elettriche per la città di Brescia e provincia è stata intorno al 39%. Rispondiamo alla seconda domanda. Osservando il carico complessivo della città di Brescia si può osservare che il suo normale profilo giornaliero per il lockdown ha un andamento tipico dell'utenza di tipo industriale terziario. Durante il lockdown il profilo di carico complessivo della città ha cambiato forma assumendo il profilo tipico di un'utenza residenziale. I risultati di questo studio sono riassunti nel terzo dossier RSE dedicato agli impatti sul sistema elettrico del Covid-19.